Bentornati in quarta e ultima parte di LBA On Air, vedete come il basket è il magazine della Lega, Guido, Jack e Gae, tornata la formazione tipo, salutiamo e ringraziamo ancora una volta Antonio Cabrini. In chiusura, in questa ultima tornata, intanto dobbiamo nominare, non noi ma in generale i tifosi e il mondo del basket italiano, l'MVP della nona giornata e Pablo Aguilar, questo spagnolo è arrivato ormai nel nostro basket in maniera presente da tre settimane, da tre partite, a parte la pausa del Next Gen con Reggio Emilia, il salvatore, possiamo dirlo, della patria, tra l'altro Reggio è la città della patria, nel senso del tricolore, quindi ancora di più. Confermo la scelta, 29 punti con tre soli errori al tiro meritavano l'MVP di giornata. Molte volte si parla di americani, di inserimenti, di qua, di sopra e di sotto, arriva uno spagnolo conosciuto ma sicuramente non come superstar, e può cambiare realmente il discorso. Tra l'altro Reggio Emilia adesso sta correndo ancora ai ripari, prenderà un paio di americani e tutto il resto, però insomma direi ha preso Casey Rivers che giocherà dalla prossima giornata, però insomma Pablo Aguilar ha avuto un impatto. Il giocatore di esperienza, di carisma. 7 su 8 al tiro, no? 7 su 8 al tiro, insomma ha fatto veramente la differenza sia sotto che fuori perché tira anche eccezionalmente bene da 3. 5 su 7, se non sbaglio. Niente male per un giocatore fisico che può veramente cambiare la stagione di una squadra come quella reggiana. Adesso lasciamo Aguilar spagnolo di passaporto, anche se ormai gioca il nostro campionato, e ci dedichiamo Gaia a un giocatore italiano che sta veramente giocando il suo miglior campionato negli ultimi anni. Lo sta facendo in due situazioni non facilissime. A perché gioca a Milano, quindi la concorrenza è tanta. B perché vive in una situazione dove comunque la pressione oltre che la concorrenza è sempre lì. Una squadra con i fari puntati è quella di Milano. Sbaglia Milano, sbagli molto più che in un'altra piazza. Sì, parliamo di Andrea Cincerini, anche molto attivo sui social, ha 57.000 follower. Fra l'altro di recente in un'intervista a Kaukenas l'ha definito un giocatore esempio per quello che fa sia dentro che fuori dal campo. Era Montegranaro, credo, con la maglia della Fabi, molto giovane. Anche se non è cambiato, non è invecchiato tantissimo, la faccia è sempre quella. No, no, è invecchiato bene. Io sono impressionato. Allora, se mi permettete l'intromissione, una cosa importante. La famiglia Cincerini, perché sia Daniele che Andrea, sono due grandissimi appassionati di pallacanestro, ma soprattutto giocatori molto determinati. Quando scendono in campo sai che loro sono in campo, perché vogliono vincere, li vedi con una grinta negli occhi, leggi la determinazione. Andrea sta facendo un processo, secondo me, difficilissimo, come hai appena detto, perché comunque parte da una situazione dove anche a Reggio Emilia o in passato qua a Montegranaro lui aveva molto spazio, quindi poteva gestire la squadra, eccetera. Adesso è chiamato sempre più a dare minuti di grande qualità. E da playmaker non è semplice. Soprattutto dovendo gestire con carisma una squadra di tanti campioni. Lui, negli ultimi anni, magari l'abbiamo conosciuto con le sue zingarate. Magari entrava, penetrava e poi girava senza tirare, passando la palla, cercando magari l'uomo più libero. Adesso ha fatto un ulteriore passo. Oltre a saper leggere il gioco e a passare bene la palla, ha cominciato a far canestro. Ad avvicinarsi, non soltanto da fuori, far canestro da fuori, migliorato molto sul tiro, ma addirittura anche vicino a canestro. Quindi un processo veramente, veramente di cui fare il complimento. Che attacca il ferro. Tra l'altro, avendo degli americani nel suo ruolo, così importanti come Mike James, uno per tutti, ma ce ne sono stati e ce ne sono di altri. Lui attacca il ferro. Un altro direbbe, lo attacca, lascialo, che penetri Mike James, che penetri qualcun altro. Invece ha preso coraggio Gaia e ha mostrato un aspetto del suo basket, che probabilmente c'era, però per qualche motivo non era saltato fuori negli ultimi due anni milanesi. Io penso che sia importante avere anche una solidità dal punto di vista emotivo. E come diceva lui, anche la famiglia, tutto il resto è importante. È cresciuto. Lui più volte ha detto che, si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E lui più volte in intervista ha dato importanza a sua moglie Alessia, che è da diversi anni la sua compagna. Sì, peraltro è sempre a bordo campo. È sempre presente. Con i bambini, è sempre un'immagine quasi americana, non tanto italiana. La classica situazione dove le fidanzate o le moglie degli americani in Italia, anche perché non hanno tanto da fare durante il giorno, vanno sempre alla partita. E qui, in immagine italiana, è molto bello vedere la famiglia a bordo campo al forno. Sì, poi lei ha studiato psicologia. Lui spesso dice, ecco, li vediamo nella foto, insieme, innamoratissimi. Lui dice che quando ha qualche problema si rivolge a lei, che spesso gli dà molti consigli utili. Quindi sicuramente è un lato molto importante. Hanno avuto anche un bambino, Alessandro. Anche lui sempre presente alle partite, è già appassionato di pallacanestro. Il cincia gli ha detto, gli ha dato anche la possibilità di scegliere fra calcio e basket. Ma il bambino sembra più indirizzato verso la palla spicchi. La scelta è stata abbastanza relativa. Gli ha messo in mano un pallone da basket e ha detto, prova a dargli un calcio. Se ci provi, il bambino, no, no. Un po' indotto. Ha imparato a distinguere i suoi compagni di squadra. La nazionale li chiama i ragazzi con la maglia azzurra. Assolutamente, secondo me, ha un futuro segnato. C'è qualcos'altro da dire e suggerire? Abbiamo detto tanto. Tecnicamente, ricordiamo che è andato anche in nazionale. Anche se una partita su due perché c'era il problema dell'Armani che giocava in Eurolega. Ne abbiamo già parlato di queste sovrapposizioni. Io credo che lui possa essere, ai mondiali, il playmaker titolare della nostra nazionale. Se gioca così non vedo perché Sacchetti non gli possa dare questa chance. Io credo che il suo miglior talento sia il fatto di saper leggere la situazione in campo. È un vero playmaker. La cosa fondamentale è che noi dobbiamo utilizzarlo come playmaker. Nel senso che non deve entrare in campo e non avere la palla in mano nell'impostare il gioco. Possiamo dare la palla alle guardie, possiamo dare la palla magari ai nostri numeri tre, ai nostri talenti. Però nell'impostazione del gioco io voglio vedere Cincarini o il playmaker che porta avanti la palla. Questa è la mia considerazione. Scusa, una cosa tecnica. Ma secondo te possono convivere, non per un attimo come capita, ma per una buona parte della partita Mike James e Cincarini in campo? Cioè far giocare James due e Cincarini? Mike James ha un tale talento offensivo. Ci sta come idea? Assolutamente. Si può permettere di giocare anche da numero due. Quindi anzi, secondo me è un valore se vuoi abbassare il quintetto giocare con Cincarini nell'impostazione del gioco. Tant'è che molte delle occasioni che Cincia ha saputo utilizzare sono proprio scaturite dal fatto che la difesa fosse concentrata su altri giocatori. Quindi a maggior ragione se hai un Mike James a fianco la difesa guarderà Mike James. Bene, in attesa di fare anche una videochiamata con Cincarini. Sì, che ho un paio di curiosità da dire. Sì, però ricordo di che famiglia e tutto il resto. Quindi quello che abbiamo fatto con Pippo non si può fare. Non si può fare. Allora, salutiamo il Cincia e lo aspettiamo anche a livello in Eurolega, anche a livello nazionale, su quello che sta facendo vedere, ma anche di più. Adesso noi ci dedichiamo alla storia di una squadra. Abbiamo già visto, cito a memoria, Milano, Venezia, Trento e Brescia. Tocca ad Avellino. Avellino che, a differenza di Trento, ha una storia un pochino più lunga. A differenza di Milano, una storia un pochino più breve. Arriva in A2 col marchio Cirio, un marchio classico che era anche al Napoli, tra l'altro. In quel periodo sponsorizzava anche la squadra di calcio sempre dalla stessa regione. Nel 97, ormai 20 anni fa. Poi in Serie A, arriva due anni dopo, il marchio Divizia, che se non sbaglio è un'azienda di trasporti locale. Quindi grande solidarietà anche per tenere in ballo il basket di Avellino. Ricordiamoci che in quel periodo c'era Caserta, che comunque a livello regionale dominava. Poi il marchio Air nel 2002. Arrivano in quegli anni la semifinale Scudetto e, attenzione, la Coppa Italia vinta nel 2008. Poi arriva De Cesare, la nuova proprietà, e anche proprietà del marchio Sidigas. Quindi, un po' come l'Armani, la proprietà è anche lo sponsor. E da lì cambiano le cose e da quell'anno lì è sempre una squadra di alta classifica. In questo campionato ha avuto qualche problemino all'inizio. Ha preso probabilmente il giocatore più talentuoso che è Norris Cole del nostro campionato, Mike James. A parte perché quello vive da un'altra parte. È un altro basket. Dicevo, sta facendo un po' fatica Jack. Ma anche se di un punto la vittoria di Pesaro potrebbe aver rilanciato quella che è la terza forza, no, a detta di tutte, del campionato. Sì, Avellino è una squadra costruita per vincere, per andare a cercare di sfidare Milano. Sicuramente ha avuto dei problemi di infortuni, questo va detto. Ricordiamo che non c'è Costello che è il pivo titolare. Sì, sicuramente era quello, se non l'altro, che aveva fatto il primo esploit. Ha giocato bene. Adesso addirittura potrebbe diventare Costello e hanno preso anche Patrian. Quindi da deboli sotto potrebbe diventare una forza vera. Patrian è un armadio, è quasi quadrato. Patrian lo aspettiamo. Se è sano è una fuori. Questa era un po' la domanda, la questione. Vediamo, vediamo. Però è intrigante. Patrian, Norris Cole e tutto il resto. Perché comunque non dimentichiamo il resto della squadra. È una squadra... Milano deve... Green, Sykes, Cole, Patrian, Costello, me ne dimentico... Nichols, più gli italiani. Sbaglio, Filoi. Filoi, attenzione. Squadra messa non bene. Benissimo. Ok, addirittura d'arrivo. Andiamo a vedere cosa succederà il prossimo weekend. Vedremo belle partite, come ci divertiremo. Inizieremo sabato con un altro appello che vede la Dolomiti Energia giocare in casa con la Grissinbon che arriva da una vittoria importantissima. Staremo a vedere. È una partita chiave per entrambe le squadre. Brescia, la Germani, che deve ritrovarsi anche lei con l'Aqua San Benedetto di Cantù. Banco di Sardegna che ospita l'Armani Exchange. Secondo qualcuno questo potrebbe essere uno degli ostacoli più complicati per l'Armani Exchange in questo campionato. Staremo a vedere. Open job di Varese contro Fiat Torino. La rivelazione. Varese contro Torino arriva dalla prima vittoria. L'Umana ancora in casa. L'Umana Reier con la Happy Casa. Ce la farò di Brindisi. Entrambe arrivano da una sconfitta. Vedremo cosa succede. La squadra tra le più calde con Varese e Pistoia. L'Oriora che ospita la Segafredo Virtus. Partita importante per tutti. Bologna che deve ritrovare la vittoria. Stengata anche dalla dirigenza della squadra. Pesaro che ha perso di un punto solo da Avellino. In casa con Cremona. La Valoni Cremona che ha trovato un Crawford pazzesco. Uno dei migliori marcatori tra i primi cinque del campionato. E poi proprio Avellino. La Sidigas Avellino della quale abbiamo parlato. Che va a visitare Trieste. Che è una squadra un po' strana. Perché ogni tanto gioca bene. Ogni tanto male. Ha fatto male soprattutto sotto canestro. Ha perso nella scorsa tornata. Vedremo se ritroverà appunto il filo conduttore. Che comunque ci ha fatto vedere un buon basket. Dalla neopromossa. In questione. Ragazzi so che sembra un attimo. Ma abbiamo già finito il nostro lavoro. Lavoro insomma. Guardiamo le partite. Parliamo di basket. Questo divertimento. Un altro senza offendere. Quelli che lavorano veramente. Per noi è un divertimento. Gaia grazie. Grazie a voi. Il prossimo torturato dalla videochiamata. Non si può dire. Non si può dire. È un segreto. Come si diceva una volta. Non anticipiamo nulla. Grazie anche a Jack. C'è stato con noi Antonio Cabrini. Che salutiamo e ringraziamo. Da parte mia è stato un piacere. Poteva andare meglio. Non lo so. Vedremo alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. All that's limited is toro Only shooting stars break the mold It's a cool place And they say it gets colder You're bundled up now Grazie a tutti.